Per caso voi conoscete tutti i filler di Dragon Ball? Parliamo di un'opera mastodontica sia per l'anime che per il manga e moltissimi mangaka si sono ispirati proprio a questo manga ma ovviamente come qualsiasi anime, ovviamente di quelli lunghi ha degli episodi che purtroppo nel manga non esistono e vengono chiamati episodi filler o mixed se non conoscete cosa vogliono dire questi due termini filler significa che è una cosa al 100% animo original e che quindi nel manga non esiste invece nel mixed appunto è un miscuglio in cui ci sono parti che nel manga esistono e parti che nel manga non esistono tutte cose create dallo studio d'animazione in questo caso la due animation in questo caso non parliamo di Dragon Ball Z ma parliamo del primo Dragon Ball della serie originale il primo anime di Dragon Ball aveva 153 episodi e di questi 21 sono filler quindi parliamo del 14% se voi avete visto solamente l'anime ben venga così con questo video scopriete tutto quello che nel manga non esiste ma prima non me lo lasciate un like un'iscrizione e un commentino su questi filler anche perché se questo video andrà bene farò anche un ulteriore video il mese prossimo sui filler di Dragon Ball Z quindi dai un bellissimo like condividete commentate fate tutto quello che volete il prossimo mese avete un video anche su Dragon Ball Z veramente grazie mille anche solo se farete una singola cosa di quello che ho detto ma ora parliamo di questi filler le prime due saghe di Dragon Ball ovvero la ricerca delle sfere e il 21esimo torneo Tenkaichi non hanno filler la prima puntata filler parte da Red Ribbon più precisamente quando Goku alla fine del torneo se ne parte la ricerca delle sfere in questo caso non incontrerà subito Red Ribbon ma incontrerà Nam e appunto Goku cercherà di aiutare Nam per il suo villaggio che purtroppo giustamente è in crisi gli serve l'acqua e dove andranno? andranno nel villaggio di Jiran quel drago se avete presente che c'era nel primo torneo Tenkaichi però appunto questo episodio non è totalmente filler ma appunto è un mixed perché l'inizio parte appunto col torneo Tenkaichi che era una parte presente comunque anche nel manga i successivi 4 episodi ovvero dal 30 al 33 saranno totalmente filler praticamente appare Pilaf che vuole le sfere del drago apparirà anche il generale Silver che è un personaggio che si c'è anche appunto nella serie animata normale c'è anche nel manga però qua avrà una maggiore importanza addirittura qua c'è una parte che nel manga non esiste ovviamente e mi sto riferendo a Goku che deve sposare Cici cioè capite che questa cosa che è una cosa importantissima nel manga non esiste quindi ci sarà un mezzo episodio se non mi ricordo male che è appunto nel 42 dopo che Goku è venuta a quel villaggio quello ha immerso nella neve se vi ricordate dopo la Muscle Tower ci sarà Ottone che avrà la bomba nel corpo e Sara quella bambinetta se vi ricordate avrà appunto l'idea di andare da un dottore per rimuovergli appunto la bomba e quella parte appunto dove loro viaggiano vanno da questo medico e gli tolgono la bomba è tutto parte dell'anime ora la puntata 44 parte Mixed e ci sarà anche il 45 che è Filler perché è tutta una cosa collegata vi ricordate dopo la Muscle Tower che Goku appunto c'era il suo Dragon Radar che purtroppo si era rotto capendo la grave situazione andrà da Bulma e qui appunto partirà il filler del Luna Park tutta quella parte del Luna Park era davvero bellissima però purtroppo mi dispiace dirvelo che è tutto un filler dell'anime e nel manga non esiste subito dopo Red Ribbon ci sarà la saga del torneo di Baba ma questa parte non ha filler dopo il torneo di Baba ovviamente c'è il 22esimo torneo Denkaichi ma qui l'anime ha fatto una cosa in più praticamente ha voluto aggiungere 5 episodi dedicati all'allenamento di Goku questi episodi vanno dal 79 all'83 e praticamente appunto ci sarà tutto il viaggio di Goku che si allena andrà appunto in qualche villaggio aiuterà appunto le persone combatterà contro dei nemici anche contro dei demoni nell'ultimo villaggio che aiuterà ci saranno addirittura Tenshinhan e Giaozzi che stanno ricattando questo villaggio per poi nell'ultimo episodio fare una bella corsa per arrivare al torneo Denkaichi poi ci sarà la saga del grande mago piccolo che anche qua comunque tutto sommato per tutta la parte di saga non ci sarà niente di filler tranne la parte finale dove arriveranno dal Supremo se vi ricordate quando Goku raggiunge il Supremo ci saranno ben 6 episodi dove Goku si allena tutta questa parte che si concentrerà sull'allenamento di Goku praticamente nel manga non esiste e ovviamente ok ci sono tantissimi episodi in mezzo ma ce ne sono due in particolare che mi hanno davvero fatto amare quell'allenamento che ha fatto Goku c'era una puntata dove Goku viaggiava nel tempo e addirittura incontrava Muten il maestro della gru e Mutaito Mutaito ma voi ve lo ricordate chi è Mutaito parliamo del maestro appunto di Muten e della gru che gli ha insegnato la Mafuba veramente è un gran peccato che Toriyama non abbia pensato a certe cose idem per Goku che combatte contro se stesso me lo ricordo tutta quella parte dove il grande supremo misericordioso Popo va appunto a creare questa copia di Goku che è un episodio infernale infernale Goku che combatteva contro questa copia e non riusciva neanche a batterla era veramente bellissimo e infine rimane il 23esimo Torneo Denkai è normale appunto ha solamente episodi regolari ma il finale di Dragon Ball ovvero gli ultimi 4 episodi sono totalmente filler scusate ho detto 4 in realtà sono 5 ho confuso colpa mia ora io non so se vi ricordate questa cosa qua ma dopo che Goku se ne parte con la nuvola spirito e Kiki decideranno appunto di sposarsi ecco ci sarà appunto lo stregone del toro ovvero il padre di Cici che sarà contento di questa cosa qua peccato che il suo castello peccato che è casa sua andrà totalmente a fuoco quindi Goku e Cici dovranno trovare una soluzione e dovranno cercare il ventaglio di Bansho addirittura per trovarlo andranno nell'aldilà incontreranno questo personaggio che si chiama Hanin totalmente originale dell'anime e Goku rincontrerà suo nonno se posso essere onesto a me tutta questa parte questi 5 episodi non mi hanno mai fatto impazzire però c'è da dire che cazzo vedere Goku che rincontra suo nonno è davvero bellissimo ed è davvero un gran peccato che anche nel manga purtroppo dopo il torneo con Baba non lo rincontrerà mai più io spero che questa piccola serie di video che voglio fare una volta al mese vi possa piacere potrei anche farlo per altri anime lunghi in realtà io avevo una piccola idea per questo video ma che purtroppo parlando parlando mi sono completamente dimenticato perché io ho tutti i DVD di Dragon Ball e mi sarebbe piaciuto effettivamente mostrarveli nel video infatti qua avevo messo una serie ad hoc proprio perché sapevo che io volevo parlarne volevo appunto farvi vedere tutto questo bordello e si ho dovuto prendere la serie perché come potete notare e ancora non ho fortunatamente finito guardate qua che bello che bello questa serie spero che qualcuno ce l'abbia perché è passato tantissimo tempo da quando è uscita avevo occupato praticamente tutto il video capitemi non potevo mettermela qua davanti però cazzo ora casomai ve la giro un pochino ve la metto qua ok per abbellimento io spero appunto che questo video vi possa essere piaciuto vi ha anche un pochino rispolverato la memoria perché oh c'è da dire la verità c'è il Dragon Ball comunque quest'anno farà 40 anni non l'anime ma il manga però comunque c'è da dire che sono ben 40 anni di Dragon Ball appunto se nel caso vi è piaciuto lasciate un like un'iscrizione e un commentino su questi filler casomai ditemi se anche voi avete questa bella edizione che è uscita ormai penso 15 anni fa più o meno penso forse 15 anni ce li ha sono veramente tanti anni che ce l'ho in casa ma ora vi saluto e alla prossima ciao